Io vado avanti con la macchina qui da dire con la peggiante, dopo la vedete, per aspettare quando io ando la bandierina dietro a me ci sono i gemelli e altri, loro capiscono che quando io ando la bandierina per dritto o c'è uno stop, o c'è il tosse o c'è un pericolo altrimenti io, con quelli che vengono da parte opposta della guida, li faccio la tutta